E così si fa la lama Si fa? Si, però non mi ricordo come si fa questo crucible Perché noi abbiamo questo di crucible Che è di legno, ovviamente questo non si può usare Ce ne serve sicuramente di roccia minimo Minimo di roccia Probabilmente sempre di clay lo dobbiamo fare E si può fare Adesso devo un po' rimettere fondo al mio libro di buono boy scout Però dovrei essere in grado di farlo Io credo che abbiamo finito Voi siete stati due disabili Allora, Anna tu Allora Allora Allora